Allora, io inizio così, guarda, io abito a un paesino molto piccolo, si chiama Castelvecchio Calviso, in provincia dell'Aquila, sotto la piazzana di Campo Imperatore, per renderci l'idea dove mi trovo. Nel cuore sicuramente è quella di io, con una bicicletta un po' vecchiotta, perché all'inizio, non sapendo cosa volessi fare nella vita, mio papà mi comprò una bicicletta, una Olmo blu, un po' vecchiotta, di seconda mano, e la mia immagine è quella mia, sopra questa bicicletta, e mio papà vicino, con una sua bicicletta col nago azzurra, e tutte e due che pedaliamo intorno al paese. Noi qui abbiamo un rettilineo di almeno un chilometro di pianura, per renderci, e quindi io e papà che facevamo sotto e sopra, sotto e sopra, e tu pensa, io prima di fare la prima gara a Carrufo di Teramo, con i maschietti, non sapevo neanche come si cambiasse, io avevo ancora il cambio, quello sotto, quelli elettronici, e mio papà il mercoledì, il giovedì prima di correre, mi diceva, allora questo è il 52, questo, e allora io ho iniziato a fare le prove, non mi sapevo neanche mettere i look, perché erano appena usciti i look, e la mia immagine è quella, io vicino, papà lui, che mi diceva, allora, tu devi fare così, allora, poi mi scattava papà e io gli andavo dietro, poi facevamo lo strappettino, e allora io cercavo di stargli dietro, e penso che quella è l'immagine che mi porterò per sempre, anche perché poi lui mi ha seguito, anche gli anni dopo, io ho iniziato a 12 anni, e lui, gli stessi chilometri che facevo io, faceva lui, lui aveva una cava di sabbia, mia, quindi staccava da lavorare, io tornavo da scuola, e tutte e due inizievamo, papà allora alle 4 usciamo, alle 3 usciamo, e allora uscivamo insieme, questa penso che sia la cosa più bella, anche perché la passione in realtà era la sua, e poi l'ha trasmessa a me, perché lui andava in bicicletta con il grande Vito Taccone, il camuscio d'Abruzzo, negli anni 60 lui ha corso, poi vabbè, quelli erano anni un po' difficili, quindi papà aveva partito per il militare, poi aveva perso il fratello in Russia, la guerra in Russia, quindi insomma è tornato dal militare e lui non poteva permettersi di andare in bicicletta, scusa, e allora doveva portare avanti la famiglia, erano 4 donne, mia nonna, 4 sorelle e mia nonna, e quindi la sua passione purtroppo l'ha abbandonata, poi sono nata io, lui pensava di un maschietto, capito, così almeno potessi andare in bicicletta, e sono nata io, piano piano ha iniziato, ma perché non inizi a correre, perché dico io non volevo correre in bicicletta, perché non mi piaceva, pensavo che fosse più da maschio, mi vergognavo un po', e invece poi la passione è scoppiata anche dentro di me, perché poi giustamente ho iniziato ad ottenere i primi risultati, qui in Abruzzo, campionesta regionale, campionesta provinciale, mi piazzavo con i maschietti, e da lì poi sono entrata nel giro della nazionale, e quindi il tuo sogno da bambina è legato alla bici, tu da bambina volevi fare la ciclista oppure? Allora, io all'inizio no, ti ripeto, mio papà mi ha quasi costretto, e a un certo punto aveva perso le speranze, perché io non volevo andare in bicicletta, invece poi ho iniziato a prendere una bici di un mio amico qui al paese, sempre questa qua da corsa, e papà mi disse, mamma ti devi prendere la bici di Nando, no no, poi se gliela rompi di là di qua, andiamola a comprare a Pescara, e andammo a bevi l'acqua, compriamo questa bicicletta di seconda mano e ho iniziato da sola, all'inizio è stata una costrizione di papà, poi invece da sola ho iniziato, e lì mi son detta, ma dai, ma perché non deve nascere dentro me una campionessa, qui a Castelvecchio, madonna, tutta salita, un freddo che Dio mio, infatti adesso c'è la neve qui da me, e poi piano piano ti ripeto, mi sono appassionata perché poi i risultati sono quelli che poi ti danno soddisfazione, no? Esatto, puoi immaginare mio papà, è sempre stato più contento lui che io, le soddisfazioni sono state più le sue che le mie, ci ha sempre creduto più lui di me, capito? E quindi siamo partiti così. Adesso facendo un salto nel futuro, che è praticamente il tuo attuale presente, con i tuoi bimbi, sei tu quella che li tira fuori? Vabbè, sicuramente mi farebbe piacere, no? Mettirli in bicicletta, Manuel ha sei anni, quindi quest'anno potrebbe quasi iniziare, già gli hanno regalato la bici, lo stesso da un mio amico, di seconda mano, che si è detto, ah ma se ci vuoi provare, dai! No, è rossa, aspetta, non mi ricordo la marca, però è rossa, e beh, io, i miei bimbi tu pensi, sanno andare in bicicletta, vabbè, ormai Manuel è grande, senza rotelle, sono passata direttamente dalla bici quella, proprio per i bambini, e all'altra bici, chissà. Vedremo cosa ci riserverà al futuro. Sì, infatti ti ripeto, con Manuel mi piacerebbe molto iniziare. Allora, la difficoltà è che qui, giustamente all'Aquila, non ci sono società, non c'è niente, quindi ci dovremmo spostare, però solo perché mio papà mi ha portato in giro per tutta Italia, tutti i sabati e le domeniche, insomma, portarli qui vicino casa, anche a cento chilometri, non è un sacrificio adesso per me, anche perché, ripeto, la passione adesso è più la mia che la loro, capito? Adesso io devo fare il lavoro che ha fatto papà. E la più piccola invece si chiama Marta, vero? Sì, la più piccola si chiama Marta, ha tre anni, quest'anno ho iniziato alla scuola materna, è un po' una piperina, quindi mi sa che mi somiglia un po' tanto, e può darsi, dai. Il ciclismo femminile comunque ha cambiato un sacco, quindi probabilmente la tua visione di quando eri bimbia tu è ben diversa. È molto diversa, infatti adesso, cioè non so se io adesso rientrerei adesso, insomma, rientrassi adesso, scusa, mi troverei un po' spiazzata perché, ripeto, io quando ho lasciato già era un altro ciclismo, e devo essere sincera, non mi fa paura questa cosa, anche perché, insomma, io sono una che si adatta a tutti. Certo, se tu vuoi. Ecco, ma ve li posso presentare? Alla lui è Manuela. Ciao Manuela. Ciao Manuela. E lei è la pipera. E lei è la pipera Marta. Ciao. 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 Allora, quindi tuo padre è stato il catalizzatore, tuo padre ti ha attivato, no? E poi da lì è nato un grande amore. Però prima, come tu hai detto, il ciclismo non è venuto direttamente con te, non era già dentro te. Hai mai pensato da bambina di fare qualche altro sport o c'è solo stato il ciclismo nella tua vita? In realtà, diciamola tutta, io ero sempre stata molto sportiva. A scuola, per esempio, ai giochi della gioventù vincevo sempre, con i maschietti, con le femminucce, le gare campestri, quindi lo sport è sempre stato in me, quello è vero. Io sono sempre stata una che non si è mai fermata, mia mamma mi diceva sempre, ma ti vuoi fermare un attimo? Cioè non riesco a stare ferma. È vero, ma tuttora io anche al lavoro, no? Io non riesco a stare ferma, non lo so, mi alzo, prendo una penna, sì, la fotocopia, la faccio io, sì, aspetta, devo, vado a prendere. Cioè è proprio una cosa che ce l'avevo dentro. Poi mio papà, diciamo, è stato quello che ha messo, diciamo così, la ciliegina sulle torte e mi ha lanciato la volata. Mi ha lanciato la volata. Hai nominato Vito Taccone? Sì. Io non l'ho mai incontrato, però me lo ricordo quando faceva il commentatore e ho visto qualche filmato del passato. Mi è anche capitato, facendo questo giro d'Italia storico, di vederlo in alcuni filmati. Mi sembra che di aver visto una tappa con Merckx e Vito Taccone al Blockhouse, mi sembra di ricordare. E niente, volevo sapere se avevi qualche ricordo da condividere su di lui, mi farebbe molto piacere. Io lo trovo un'ottima persona, però non l'ho mai incontrato. Allora, lui era, è brutto un po' un termine qui all'Aquila, è un po' brutto dirlo, però lui era un terremoto, cioè lui era un grande, lui come gli venivano in mente le cose parlava. Io con lui ho avuto un rapporto bellissimo e tu pensa, lui mi diceva sempre, allora tu ti chiami Alessandra, come Alessandro Fantini, un altro grande abruzzese, un corridore abruzzese. In più sei nata l'8 maggio, come Vito Taccone, perché Vito è nato l'8 maggio. Come fai a non andare forte, mi diceva, mi diceva sempre così. No, lui, poi con lui c'era un rapporto bellissimo perché spessissimo noi andavamo da lui a Vezzano a mangiare, a scherzare, a organizzare le cose, lui veniva a casa mia a mangiare, a organizzare le cose. Un anno, tu pensa, venne il 31 di dicembre, tipo erano le 19, le 20, quindi diciamo uno pensa al veglione, è venuto a prendersi i salami, le salsicce perché mio papà gli ha fatto il maiale, gli ha spezzato il maiale, ma davvero, questo qui è venuto alle 20 per prendersi il salame, le salsicce. Poi la cosa bella, troppo simpatica. Non erano pronte, erano ancora fresche, no? Dopo 20 giorni il papà gli fa, e allora come vanno le salsicce? Eh, ma già ce le siamo finite. Ma come ve le siete finite, erano fresche gli ha fatto, cioè, ero troppo forte. Poi lui è stato il promotore a rimettere, insomma, a posto la pista dell'Aquila, il fattore dell'Aquila, e quell'anno, insomma, noi abbiamo una pista stupenda all'Aquila, no? di 410 metri, ormai distrutta. Ovviamente nessuno è intenzionato a restaurarla, perché i soldi, giustamente, sarebbero troppi, no? E quell'anno, invece, Vito si, diciamo così, la mezza messa a posto, e ci fecero una tappa del Giro d'Italia delle Piste, dove venne anche Marco Pantani quando vinse il Giro d'Italia il Giro di Francia, no? La prima uscita che fece Pantani fu proprio da noi all'Aquila, e quegli anni, insomma, Vito ci ha aiutato a fare queste manifestazioni qui all'Aquila, quindi oltre che, diciamo, molto chiacchierone, molto anche criticato, no? Perché lui, ripeto, diceva le cose in faccia, quindi tante volte non è bello sentirsi dire delle cose vere, giusto? E quindi veniva criticato, però lui faceva i fatti, poi era un abruzzese tosto, poi mi ricordo quando arrivò la tappa del Giro d'Italia di Marco Pantani qui a Campo Imperatore, lui mise, lui insieme a tutti quanti, insomma, l'abbiamo aiutato tutti quanti, i fiocchi rosa per quasi tutto il percorso qui a Campo Imperatore. Era l'impressione che ho avuto io, guardandolo da televisione, mi è sempre sembrata una persona molto, molto schietta, veramente, come dire, semplice ma schietta, proprio tipico ciclista degli anni 50 e 60. Di una volta, esatto. E grazie per aver condiviso questa cosa e mi ha anche fatto pensare questo incrocio che hai fatto con Marco Pantani, anche lui è una persona molto simile da quel punto di vista e quindi ho solo da ringraziarti. Io i ricordi, diciamo, di vita ne ho tantissimi, sinceramente, però questi due o tre, insomma, mi sono sempre... Marco Pantani l'hai incontrato o hai potuto... Allora, io l'ho incontrato, ripeto, quella, la tappa lì del Giro d'Italia delle Piste, quando venne... Poi, sinceramente, durante le corse no, perché ecco, quegli anni ancora eravamo molto divisi, adesso vedi, già le donne gareggiano con le gare di Coppa del Mondo, insomma, sono già molto più uniti, invece prima no, le donne da una parte, gli uomini dall'altra, anche quando si facevano i mondiali, diciamo, non è che si stava molto così uniti e quindi purtroppo l'ho conosciuto solo lì alla tappa del Giro d'Italia, lì all'Aquila, però vabbè, Marco Pantani è un po' un mito di tutti, no? È il mito di tutti, quindi sembra di conoscerlo da sempre, basta guardare le sue immagini che lo conosci, no? Eh sì, poi io sono degli anni Ottanta, quindi è stato il campione della mia annata, ecco. Il campione di sempre. Sì, oltre a essere stato tra i più grandi in assoluto, sì. Ma possiamo ancora avere un salame anche noi? Quei salami lì sono belli che andati, perché dico, se le belli che finiti, quindi non ci sono, però non ti preoccupare che a casa mia c'è molto di più, infatti noi eravamo sempre la famiglia che portevamo tutto da casa, noi facevamo i panini a tutti quanti, mio papà apriva lo sportellone della macchina e tutti quanti sapevano che venivano lì alla macchina Dettorre e Dettorre portava il vino, portava il peperoncino, portava il salà, la salsiccia, il prosciutto, noi facevamo questo. Questa cosa che hai menzionato non è la prima volta che la sentiamo, fa parte di questo pacchetto passione ciclismo, la condivisione, anche la condivisione alimentare, sembrerebbe che una delle cose, una dei ricordi che sono più piantati nelle menti dei ciclisi è proprio quella, avere le famiglie, amici, allenatori che prima o dopo la gara li rifocillavano con con il cibo. Con i prodotti tipici, è vero, perché noi, poi mia sorella è brava a fare i dolci, quindi noi portevamo anche la crostata di marmellata fatta in casa, noi eravamo sempre quelli davvero che dopo la gara, come dici tu, durante la gara casomai ti prendevi pure a pugni, per modo di dire, poi invece dopo tutti quanti a festeggiare o si vinceva o si perdeva, noi eravamo sempre quelli generosi che offrivano per stare insieme, come appunto dici tu, per vivere, perché era un po' un segno di unione, capito? E questo non c'è più, non esiste più. No, perché adesso, ecco, il discorso di prima, perché adesso il ciclismo è un po' cambiato, capito? Non c'è più il genitore che ti porta a correre, che ti allena il genitore, no, adesso ci sono le grandi squadre, giustamente, e pensano a tutto loro, non è che tu dopo la gara ti mangi pane e salame, assolutamente, dopo la gara tu prendi i tuoi integratori, il tuo bidone, il tuo papà casomai non c'è oppure sta dietro le transenne. prima era un po' quello, no, infatti tante volte quando io mi sento con le mie ex compagne con le quali ho vinto il campionato del mondo, è proprio quello, ci manca proprio quello, che all'inizio casomai eravamo molto rivali, perché giustamente volevamo vincere tutte, no, invece dopo eravamo veramente come sorelle. Io volevo proprio cadere in questo argomento che hai appena toccato, le tue compagne di avventure, perché alcune, non volevo dire molte, ma alcune le abbiamo intervistate, vorrei avere un tuo ricordo delle tue compagne, le preferite, le non preferite. Guarda, io sono stata quella che, diciamo, ha conosciuto la Luperini, la Cappellotto, la Buonanomi, la Pregnolato, la Chiappa, la Bellutti, cioè persone di un certo livello che hanno fatto veramente, hanno lanciato il ciclismo femminile, no? Quindi io ero la piccolina, loro le big, no? Io le vedevo veramente dall'alto. E il ricordo che di loro è bellissimo, perché alcune non di loro, e altre, diciamo sono state un po', si può dire, un po' stronze con me, perché giustamente io ero la campionessa del mondo, la piccolina, quella che prometteva, e diciamo, non so, a alcune forse gli ero antipatica, ma non importa, insomma. A queste che ho citato le rispetto da morire, perché ripeto, con loro facevo i raduni, gli stavo simpatica, forse perché ecco, con quest'accento un po' abruzzese, poi mi chiamavano la Terrona, nel senso un po' simpatico, no? E quindi ho un ricordo bellissimo di loro, mi hanno insegnato tantissimo, ho faticato tantissimo da morire proprio, perché andavano veramente molto forte rispetto a me. Invece poi sono passata con le altre, no? La Bronzini, la Bastianelli, la Longoborghini, la Guderzo, la Baccaille, insomma, tante altre, e con loro il rapporto è stato, diciamo, un po' più tranquillo, più bello, perché giustamente la stessa età, poi ho corso con quasi tutte di loro, e pure con loro un rapporto bellissimo, tuttora mi ci sento, gli manco, perché io sono, e penso di rimanere sempre la simpatica del gruppo. L'abbiamo saputo, la Barbara, la Guarischi ci ha detto, no? In gruppetto con lei, ci serveva tantissimo. Le risate bellissime, perché poi giustamente quando si faceva gruppetto, no? Quando il famoso gruppetto, e lì volavano le barzellette, le storie, di tutto di più. Ed io ero, ripeto, sempre quella che era amica di tutte. Io credo di essere rimasta amica di tutte, quindi mi ricordano per questo, perché ero simpatica. Sarei stata anche brava a fare il tuo mestiere, immagino. Beh, sì, diciamo che, allora sì, io sono partita con il titolo mondiale, poi c'è stato anche il titolo europeo, quindi diciamo, ero un po' una leader, no? Quegli anni, da junior, da elite. Poi piano piano, durante la mia carriera, mi sono trasformata in un ottimo gregario. Guarda, insomma, con Giorgia Bronzini. Quindi la mia carriera, diciamo, è sempre, è partita dal leader e poi piano piano mi sono trasformata in un ottimo gregario. Io credo di essere stata molto professionale, anche se forse potevo dare un po' di più. Alcuni anni, diciamo, non so, non ho reso quello che forse potevo, no? Però credo di, mi ritengo un buon corridore, un corridore, insomma, che ha fatto bene il suo lavoro, che è stata grande appassionata, perché tu pensa ai sacrifici che facevo io, insomma, me lo dicono tutti, ma come hai fatto? Perché tu pensa, io partivo all'inizio con papà, poi non potevo far venire l'estero, quindi aggiungere la società, partire con l'aereo e andare. E allora io partivo da casa mia, prendevo l'autobus all'Aquila, all'Aquila andavo fino a Pescara, a Pescara prendevo il treno e lì mi portava in stazione. Poi o mi venivano a prendere le amiche, le famose amiche, moltissime, o mi venivano a prendere loro o alcuni genitori, perché molti genitori, insomma, tipo la Bronzini, la Borgato, oppure tanti altri, no? Mi venivano a raccimolare da qualche parte e poi mi portavano in società. E tu pensa, e io portavo lo zainetto, la borsa e la bicicletta, quindi vi potete immaginare le scene, vi potete immaginare le scene. E nessuno mai che mi ha dato una mano. Tu vedi una ragazza, una ragazzina, perché alla fine avevo 20, 22, 25 anni, con le cose, scendevo le scale, salivo le scale, attraversavo, niente. Nessuno mai che mi avesse dato una mano. Ma io pensavo a queste cose perché abbiamo visto un poco della tua carriera. Stavo pensando a queste cose e pensavo ai tuoi figli. Cioè, i tuoi figli cosa pensano di avere una mamma campionessa, con questo carattere, questo passato. Allora, vi posso dire una cosa. Allora, l'altra sera io ho fatto la riunione, l'incontro scuola famiglia con la maestra di Manuel e mi ha detto, ma è possibile che suo figlio signora non sapeva che lei era una campionessa? Allora, sapete che io devo essere sincera, non gli ho mai detto mamma ha fatto così. Anche perché sono impegnati sempre a giocare, sono distratti a fare le cose. Quindi fondamentalmente non è che stanno quello che io realmente ho vinto o che cosa sono stata. Alcune volte gli dico, ecco, quando mamma correva in bici, che ne so, ma così, una cosa molto volante. Poi l'altro ieri gli ho detto, io qui ho un peluche degli olimpiadi, no? Perché sono stata a Pichino. E allora Manuel l'ha preso, stava giocando. Io faccio, Manuel, stai attento a quello perché quello quando sono andata alle olimpiadi, l'ho comprato quando... Sì, 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 lo so, lo so. Manca un po' di prospettiva ancora, bisogna dargli un po' di tempo che crescano. Sì, ecco. Adesso ancora devono mettere forse un po' a fuoco, capito? Però... No. Allora, in realtà che, diciamo, sono andata in bicicletta, tuttora va anche mio marito in bicicletta perché lui è un amatore e quindi lo sanno, no? Infatti, dove sta papà? Eh, o al lavoro o in bici? Ah, sta in bici. Però ancora è una cosa per loro molto, molto lontana, come dire. Un po' confusa. E hai menzionato la pista, infatti guardando la tua carriera hai fatto anche molta pista e mi stavo giusto chiedendo dove, perché appunto i ciclisti... Esatto, i ciclisti che abbiamo intervistato, quasi tutti, si lamentano del fatto che mancano piste e quando appunto ho visto la tua biografia mi chiedevo dove l'avessi fatta tu. Allora, io in realtà, per fortuna, diciamo, ero molto seguita dalla nazionale, quindi facevano proprio i raduni mirati per la pista e quindi Salvoldi mi metteva sempre dentro, quindi diciamo il più l'ho fatto con la nazionale. Però quando stavo qua in Abruzzo, ecco, quel periodo che stava un po' messa benino la pista dell'Aquila andava all'Aquila, ma molto poco, eh. O se no noi andavamo a Avezzano o a Lanciano, stavano le due piste, però era sempre un continuo spostarsi, cioè io abito, ripeto, in un posto molto sfigato e quindi mio papà giustamente già si sacrificava il sabato e la domenica per andare, diciamo, alle gare su strada, no? Chiedergli anche durante la settimana, una o due volte a settimana andare in pista era molto, molto difficile, capisci, per lui. E quindi, ripeto, la maggior parte andava ad Avezzano perché sta un'ora di macchina, quindi riuscivo, diciamo, a raggiungerla abbastanza facilmente, invece che Lanciano già sta un'ora e mezzo, un'ora e quaranta, quindi andavo molto poco a Lanciano. Però, ripeto, il più l'ho fatto con la nazionale, purtroppo. Tu hai menzionato l'essere gregario, no? Di altre persone. Ecco, io l'ho sempre trovato una delle cose, se non la cosa più bella del ciclismo. In nessun altro sport esiste una memoria esiste una, come dire, una valutazione positiva delle persone che ti hanno permesso di raggiungere quei risultati. Nel ciclismo c'è l'albodoro, ma la gente si ricorda altrettanto, le persone, soprattutto nel passato, forse ora un po' meno, che ti hanno aiutato a arrivare a quegli livelli. Un Michele Scarponi è più amato della maggior parte delle altre persone che hanno vinto le altre gare. E questo è sempre una cosa che mi ha fatto, come dire, pensare e mi ha fatto essere ancora più felice di seguire il ciclismo. Volevo sapere cosa ne pensi? Allora, guarda, io ho sempre detto che essere un gregario non è degradante, assolutamente. Come dici tu, è un punto di forza. Perché tu sai che il tuo capitano si fida di te. Quello che tu fai, lei fa, secondo me, per pochi. Per carità, poi vince solo uno, come Giorgio Abronzini, vinse il mondiale. Però quel mondiale di Copenhagen, lei si è fidata totalmente di noi, capito? Qualsiasi cosa che noi pensavamo, lei pensava. Insomma, l'abbiamo seguita e lei si è fidata ciecamente di noi. E non è da poco una cosa che dici, io sto in questa gara e so che Giorgia è per me, io sto correndo per lei, lei deve vincere per noi. E lei era sempre quella che poi ci ringraziava, capito? Non è mai stato un capitano sbruffone o… anzi, una volta però mi ricordo una cosa, guarda, questa ve la devo di perché è troppo simpatica. Allora, tappa del Giro d'Italia, si arrivava insomma a gruppone, mancavano pochi chilometri all'arrivo, 7, 8, 10 chilometri, insomma, un caldo bestiale, quindi permettevano di prendere le cose dall'ammiraia anche verso gli ultimi chilometri. Insomma, mi avvicino a Giorgia, e faccio Giorgia, cosa ti serve? La Red Bull. Ok, vado dietro, cioè, potete immaginare gli ultimi chilometri, no? Già si va fortissimo, e vado dietro la Red Bull, fresca, chiamo l'ammiraia, a tutto per non perdere le ruote. Ok, viene l'ammiraia, prendo la Red Bull, risalgo tutto il gruppo, sempre si andava forte, arrivo davanti, prendo… Giorgia, la Red Bull! Ale, ma io volevo la Coca-Cola! Io cos'è? No, Giorgia, ti prego! Poi l'ha bevuta lo stesso, eh, perché insomma… Mi aveva detto la Red Bull! Voleva anche una fettina di limone, però… Sì, giuro! Però, ripeto, per un capitano, che poi quel giorno arrivò, mi sa non vinse, però arrivò a seconda, terza, insomma alla fine la squadra c'è sempre stata, e ripeto, era tanto essere un gregario, anche perché poi, essendo gregario, ci si unisce ancora di… durante la gara, ma anche fuori, e là è una cosa molto… Grazie per questa prospettiva, perché stavo proprio pensando ieri a questo mondiale con la Bronzini, che tra l'altro abbiamo intervistato, e sì, ero proprio curioso di sapere quali sono le emozioni da Gregario, appunto, che porti fino agli ultimi metri… Io quel mondiale, diciamo, è stato l'ultimo, poi l'anno dopo poi smisi di correre, e io sapevo dentro di me che era l'ultimo mondiale, perché giustamente già ero grande, poi già il mondiale dopo era molto più duro, poi insomma già sapevo che nell'aria potevo smettere, no? Quindi ho fatto quel mondiale veramente con anima e cuore, oltre che con le gambe, perché quell'anno sono andata veramente molto forte, insomma, per far parte della nazionale bisogna andare forte, non ti regala niente nessuno, e io ero, oltre che ad avere l'incarico diciamo di essere un po' la chioccia, no? Perché ero anche la più grande, quindi Dino Salvoldi mi mise come capitano, diciamo così, anche perché quell'anno non si poteva correre con le radioline, quindi io andavo dietro all'ammiraglia, parlavo con Dino, riferivo le cose, andavo davanti, riferivo a Giorgia e alle altre quello che c'era, che mi avevano detto, insomma, e è stato un mondiale bellissimo, ha vinto Giorgia, perché ha vinto Giorgia se l'è meritato, ma ha vinto tutta la nazionale, perché veramente siamo state veramente delle le pedine, è come se Dino dall'ammiraglia ci muovesse lui, capito? Io facevo quello, Monia faceva quell'altro, Tatiana faceva altro, la Longo faceva altro, quindi siamo stati proprio tutto a tavolino e tutto è riuscito, grazie giustamente a Giorgia e grazie alla fiducia che lei ha dato in noi, capito? Sandra, devi sapere, questa è una notizia in anteprima mondiale, noi nel 2030 disegneremo il Giro d'Italia, ancora non lo sa nessuno, neanche quelli del Giro d'Italia, ma se non ci credi tu in primis, non arrivi da nessuna parte. Giusto, crederci. Però abbiamo un piccolo problema, che ne io ne Matteo viviamo in Italia, quindi abbiamo bisogno di una mano da persone nel territorio e persone con una certa formazione, per quello che stiamo intervistando tutti, in realtà è un side project, diciamo, stiamo... Tastando il terreno, tastando il terreno. Esattamente, quindi Matteo adesso ti spara la sua domanda, stringendo. Venchi è così, ha paura che rubiamo il posto. Comunque la domanda è, sapresti indicarci nella tua regione o al di fuori, se vuoi, un posto in cui avrebbe molto senso far passare una gara ciclistica, ma è un posto che non è mai stato usato, ma in cui avrebbe senso. Allora, vabbè, diciamo che i posti belli in Abruzzo ce ne sono tantissimi, no? Tu sai il block house, tu sai il campo imperatore, però ecco, quei posti già sono stati visitati, cartepenna, vabbè, tanto basta che metti... Beh, sicuramente sono dei posti caratteristici, oppure le nostre coste, per carità, noi si passa dalla pianura, alla montagna, alla collina in un attimo, diciamo così, quindi i percorsi da fare ce ne sarebbero tantissimi, guarda, così a cosa ti potrei dire? Un bel block house, riscendi, risali, arrivo a Campo Imperatore, si potrebbe fare, bellissimo, oppure si potrebbe passare da Rigopiano, anche la zona lì è molto bella, molto, diciamo, brutta per altre cose, ma dei percorsi bellissimi. Ti potrebbe bastare o... Sì, se tenevi in mente una, mandaci un messaggino. Guarda, se vuoi ti mando l'altimetria tutto, ti posso mandare tutto, si parte dal mare e si arriva a Campo Imperatore. In una tappa facciamo mezzo Abruzzo. Roccaraso è in Abruzzo, vero? Sì, bravissimo. Anche l'interno a Roccarà, bravo, la piana dei 5 miglia, però poi lì viene... è un bel tappone, eh? Bisognerebbe... Il Giro Italia aveva una media di 250 chilometri e 5.000 metri di dislivello, erano tutte tappacce. Non abbiamo fatto proprio le tappe di trasferimento. Vabbè, però potrebbe essere una bella... Sì, si potrebbe passare anche lì da Roccaraso. Poi i velocisti, secondo me, ce ne diranno dietro tantissime, però... Si potrebbe organizzare un mondiale in Abruzzo, del ciclismo? Allora, guarda, quest'anno Albadriatica stava in lista, sai, per organizzare il mondiale. Avevano già... sì. E questa cosa del mondiale comunque non è finita, non è chiusa, eh? Diciamo così. Io conosco delle persone interessate, appunto, che hanno chiesto questa cosa e non è chiuso come discorso. Quindi un eventuale mondiale in Abruzzo... Io mi ricordo, a memoria, mi ricordo solo mondiali o al sud, tipo Sicilia, o al nord, a Firenze. Insomma, il centro, non mi ricordo se ha avuto dei mondiali di ciclismo, a memoria, però... In Toscana, in Toscana l'ho fatto nel 2014, esatto. E poi gli altri... sì, in realtà proprio al centro, tipo Lazio, ma... No, lo proponiamo noi, lo proponiamo noi. Quando tu hai lasciato, era già abbastanza prima del World Tour, adesso il ciclismo femminile è passato il World Tour. Mi piacerebbe, e so che sei ancora appassionata del ciclismo, che lo segui, quindi vorrei capire cosa ne pensi di questa evoluzione, se la reputi positiva, se pensi che il ciclismo femminile sia arrivato, se pensi che c'è ancora strada da anni... No, secondo me c'ha anche tanti margini, sai perché? Perché ci sono delle ragazzine che vanno molto forte, e questo è tutto a vantaggio, giustamente, del ciclismo femminile, no? Italiano, soprattutto, andavano forte solo le straniere. Sempre queste straniere vincevano tutto loro, la Voss, le tedesche, andavano fortissimo loro. Invece adesso, veramente molto, 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 molto brave, queste nuove ragazzine, ma tutte quante, capito? Io ho visto anche il campionato del mondo, si sono comportate benissimo. Adesso c'è questo famoso cambio, secondo me, generazionale, sì. Per carità, ci sono pezzi di storia che possa essere... Vabbè, la Longoborghini quest'anno è andata fortissimo, quindi lei, diciamo, è un po' il faro di tutto in questo momento. Però una Guderso, insomma, una Bastianelli, sono dei pezzi di storia italiana, quindi loro fanno parte, diciamo, del ciclismo femminile. Ma queste ragazzine le seguono molto bene, capito? Quindi io mi auguro, e sono convinta, che andrà sempre meglio, anche perché ci sono anche ragazzine junior che vanno tuttora forti, no? In cambio, in campo internazionale. Quindi saranno destinate sicuramente da elite a seguire questi fari che abbiamo già fissi. Ho fatto tre generazioni, Guderso, Longoborghini, poi adesso ci sono le ventenni. Forse riusciremo a intervistare la Balsamo, lo anticipo, che ha vent'anni. L'isa va fortissimo, come... Sì, ma tutte quante, anche in pista, ho visto, tantissimo, le ragazzine che veramente battono grandi persone, insomma, tedesche, lituane, ukulele, insomma... E secondo te perché c'è questa... finalmente c'è un movimento italiano? Allora, perché sicuramente sono seguite molto bene. C'è un tecnico che si chiama Edoardo Salvoldi, che sa fare benissimo il suo lavoro e che riesce a gestire... Allora, lui mi ha seguito per tantissimi anni, Dino, no? Quindi io so come lavora, lui è molto attivo e non so perché Dino riesce a sapere già tutto. Cioè, lui quando ti dice una cosa, lui sa come andrà a finire. È preparato, perché è preparato, e poi perché è appassionato e gli piace quello che fa, capisci? Quindi si è creato un gruppo intorno che mette tranquillità a queste ragazze. Dino, ripeto, non so perché, ma anche quando mi seguiva, quando seguiva tutto il ciclismo femminile, sapeva già tutto. Quindi tu ti fidavi di Dino, capito? E queste ragazze hanno trovato il giusto punto di forza. Poi, giustamente, sono sicuramente forte già di loro ed è un'unione perfetta, capito? Le doti le hanno, chi le segue le hanno. Poi hanno anche le squadre, ovviamente le società che gli permettono di fare la loro attività sia su strada che su pista, perché molte ragazze fanno entrambe e riescono a fare entrambe benissimo. E qui ci vuole organizzazione, perché una ragazza non può andare forte tutto l'anno. Io, quantomeno, non riuscivo ad andare forte tutto l'anno. E Dino, invece, appunto, per questo riesce a fare gli programmi mirati per i campionati del mondo su strada, per quelli su pista, per i campionati europei su strada, per quelli su pista. Quindi avere intorno persone che ti danno una sicurezza, poi c'è una federazione che giustamente adesso mette a disposizione tutto, è perfetto, capisci? Hai anche menzionato di passaggio le categorie giovanili, juniores, così, che è un tema che a Matteo sta molto caro, è molto caro. E sicuramente Matteo ti avrebbe chiesto se segui i giovani che crescono e, o se ti piacerebbe, in qualche modo, partecipare alla crescita di questi giovani. Allora, io sai che ti dico che Al Paese è piccolissimo, ripeto, e stiamo su un cucuzzoletto, quindi, e sono riuscita a organizzare per almeno tre o quattro anni delle gare per i bambini giovanissimi. Allora, i primi due anni facciamo, dato che qui è molto, molto duro i percorsi, abbiamo fatto gli sprint al centro del paese, al rettilineo del paese e siamo riusciti a portare sui 150-160 bambini, quindi gli facevamo fare gli sprint, le categorie, bellissimo, cioè una cosa bellissima. Che poi, sì, è una festa per tutto il paese. Poi ti dico, per organizzare ci servono i soldi, torniamo al punto di partenza. Per fortuna io ho sempre qui intorno persone che riescono a darmi, ecco, chi la 100 euro, chi mi mette a disposizione il buffet, chi mi mette a disposizione le coppe, qualcosa lo metto io personalmente, perché, ripeto, la passione è rimasta, quindi a me non interessa mettere i soldi per, non so, comprare le coppie per i bambini. E quindi qui al paese, per tre anni di fine, abbiamo fatto gli sprint. Poi un anno ci siamo voluti buttare nella categoria di esordienti e abbiamo fatto fare proprio il giro del paese, però era un po' dura, salita, discesa, salita, discesa, però comunque sono venuti sui 120-130 ragazzini esordienti. Partiti 130, arrivati. Sì, vabbè, poi un po' di meno, però comunque è stato bello, perché poi alla fine abbiamo chiuso tutto il cerchio con il buffet finale da mangiare per tutti, da bere per tutti, abbiamo fatto il famoso buffet per tutti. E a me piacerebbe tantissimo fare una società per i bambini, però, perché vorrei partire proprio dalla base, dalla base e perché vedo, cioè, vedere quei bambini, no, sgambettare piccoli, 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 o quelli, cioè, i pantaloncini che gli andavano larghissimi, il casco tutto storto, cioè, sta una cosa bellissima. Quindi adesso forse sono un po' tanto occupata, giustamente con il lavoro, con i bambini ancora piccoli, quindi riuscire a fare tutto è un po' difficile, perché è facile dire, ah sì, io voglio fare la società, sì, poi però se tu fai la società, giustamente i bambini li devi seguire, non è che puoi dire, che ne so, allenatevi cinque giorni a settimana, ciao, ci vediamo domenica, no, io non lo farò mai una cosa del genere. Io se farò una società per i bambini è perché li voglio seguire, gli voglio dare dei consigli, gli voglio uscire con loro e giustamente è bisogno di tempo, io adesso facendo i turni al lavoro, i bimbi piccoli, mio marito che lavora, insomma di tempo ce n'è un po' poco. È una roba che ti piacerebbe fare, insomma, allenare proprio. Sì, partire da una, sì, allenare i bambini piccoli e perché no, portarli in giro, anche se qui, diciamo, il nostro è un territorio particolare, fa sempre freddo, insomma, abbiamo un po' di salite, però io penso che se non provi, non puoi mai capire, no, se realmente anche qui c'è un piccolo campioncino, perché no? Tra tutti questi paesini, no, buttati in mezzo al Gran Sasso, può nascere un pantani? Perché no? Un scarpone, perché no? L'ho pensato anch'io questa cosa, perché io ho fatto a livelli infimi ho fatto atletica e mi ricordo che almeno per i bambini c'era il gioco atletica oppure alle elementari o alle medie c'era la corsa campestre una volta all'anno che era più una festa che una competizione e mi sono sempre chiesto perché non si riesca a fare con il ciclismo, perché una bici ce l'hanno tutti più o meno e non lo vedo così frequente come per l'atletica e quindi me lo sono sempre chiesto, quindi è una cosa lodevole se riesci a farla sarebbe davvero bella E devi trovare, ecco, la persona che può essere io, mio marito, perché anche lui è molto appassionato che si prende questi 5-10 bambini, 15 bambini quelli che sono e li provano, almeno si prova, poi lo sai che cos'è? Che la bicicletta piace a tutti, adesso io muovedo d'estate già di più perché giustamente fa caldo, poi noi abbiamo dei percorsi stupendi ma in tantissimi mi dicono, Alessandra, ma perché una come te insomma puoi fare una squadra di bambini? No, facciamo bene i figli, li facciamo divertire Ripeto, sarebbe una cosa bellissima, però devi avere tempo e per il momento io ho bisogno di tempo Ascolta, noi abbiamo cercato di fare un qualche cosa di diverso nelle interviste e un qualche cosa che vogliamo ripetere a chi verrà dopo di te e che abbiamo fatto a chi è venuto prima di te è un giochino, niente di che, però noi ti faremo vedere una fotografia di un qualche cosa e vorremmo sapere cosa ti viene in mente di primo archivio Non so se hai presente il test di Rorschach dove si fanno vedere delle macchie colorate e uno deve vedere quello che c'è dentro In questo caso non sono delle macchie colorate, è un'altra cosa dammi un secondo che condivido lo schermo e quando ti arriva lo schermo dici la prima cosa che ti viene in mente Ok La pace Bellissimo, ottimo La pace, però mi viene da pensare alla tranquillità con i miei figli e mio marito su una barca e attraversare fino ad arrivare in fondo lì dove si vede l'ultima montagna con una bella bibita fresca, pane e salame, preciso Poi casomai non so notare tanto bene, però con il salvagente ci buttiamo tutte e quattro Sembra freschina però quell'acqua lì probabilmente Brava, sembra freschina, infatti mo' lo stavo dicendo, le temperature, meglio di no, il salvagente meglio di no Diciamo, soprattutto non dopo il pane e salame No, no, assolutamente Niente salvagente, il pane e salame rimane Rimane il pane e salame niente Brava, troviamo salvagente e mettiamo il pane e salame Le priorità sono chiare Anche in una foto sei riuscita a fare un movimento, quindi sei proprio dinamica Dai, diciamo, io sono sempre molto, ripeto, molto attiva, non so, perché questa cosa dentro di me della sportiva mi è sempre rimasta Io, eppure adesso sono sei anni e mezzo che ho smesso di correre Mi sento sempre sportiva, io sono quella che ancora non mangia le patatine fritte Non va al McDonald a mangiare quelle schifezze Sì, quelle schifezze Ecco Sì, no, per carità, piacciono buonissime Non è che sto facendo una brutta pubblicità assolutamente Però, non lo so, io per dirti sono rimasta magra perché io ho paura di ingrassare Allora mangio poco Vabbè che con i figli ingrassare è impossibile Vi dico, io sono ancora più magra di quando correvo Quindi non riesco ad ingrassare, pur mangiando penso abbastanza E io dico sempre, mi definisco ancora un atleta, non so perché però mi definisco ancora un atleta Ti ringraziamo molto per l'intervista E speriamo di vederci presto in bici in Abruzzo Magari, io vi aspetto Io sono sempre quella che dice passatemi a trovare Perché sai che adesso, devo essere sincera, mi sono un po' stufata di andare io sopra al nord Allora tutti quanti, oh passami a trovare Sono una molto calorosa, infatti mi piace moltissimo, ripeto, e invitare le persone Casa mia, io dico sempre casa mia, casa di mia mamma Insomma siamo sempre una famiglia allargata Perché siamo sempre quelli che accolgono volentieri le persone E così sono rimasta, capisci? Quindi mi piace dire Vieni, ci facciamo il caffè, vieni Perché siamo molto compagnoni in realtà La porta è sempre aperta Bravissima Grazie mille Ma di che, grazie a voi è stato bellissimo Mi sono divertita E mi avete fatto un po' rifare il tuffo nel passato Perché tante volte, purtroppo ti dimentichi delle cose Perché la vita ti porta ad andare sempre avanti Adesso il lavoro, adesso i figli E quindi è bello fermarsi un attimo e dire Ma fammi tornare un attimo indietro Ma come sono partita, ma che ho fatto? E quindi, grazie a voi